Di resta meno di un mese, poi sarà costretto a lasciare la Berlino che lo ha premiato con l'orso d'argento e a tornarsene in Bosnia-Herzegovina. Un anno fa il Rom Bosnia con Asif Mujic aveva conquistato il Festival del Cinema come miglior attore protagonista per il film del regista Denis Stanovic, An Episode in the Life of an Iron Picker. Oggi vive in un centro per richiedenti asilo a Berlino con la sua famiglia. Le autorità tedesche hanno rifiutato la sua domanda. Si è detto pronto a restituire il premio pur di poter restare in Germania. Sono venuto a Berlino per vivere una vita normale. In Bosnia-Herzegovina sono stato tradito poiché si credeva che avessi parecchi soldi. Mujic era stato celebrato da star al ritorno al suo villaggio, ma il ricordo della Biennale è presto svanito e con esso le speranze di diventare un attore professionista. Nessuno gli ha offerto più ruoli ed è stato costretto a ripiegare su lavori umili, proprio come quelli raccontati nel film nel quale impersona se stesso con le tragiche esperienze vissute con la famiglia.